un'altra veduta della azienda agricola da qua forse non ve l'avevo mai fatta vedere qui abbiamo pulito questo pezzetto di bosco che era tutto rovi che è anche bellino da vedere almeno da un pochettino è anche bello per prendersi un po' di ombra qui c'è un altro hobby della domenica c'è da tagliare a spaccare legna laghetti il classico angolo dove si mette la roba in attesa di e poi si continua nella stradina ciao a tutti e buon weekend